La filosofia del transumanesimo sta dilagando ovunque e l'Italia è quel paese in cui gli aspetti più pratici, pragmatici, di questa stessa filosofia hanno trovato un terreno assolutamente fertile e un terreno di diretta applicazione. E' infatti di questi giorni la notizia di questo informatico bresciano che è Mattia Cuffetti che ha reso pubblico il fatto di essersi fatto impiantare recentemente nel corso degli ultimi anni una serie di microchip sottocutanei che appunto in risposta alla filosofia stessa del transumanesimo permetterebbero di rendere la vita di ogni essere umano più semplice e molte mansioni, attività quotidiane più agevoli proprio per questa simbiosi diretta tra uomo e tecnologia, uomo e microtecnologia. Ci sono vari articoli che sono usciti con queste interviste a Mattia Cuffetti il quale spiega in dettaglio come sia nata questa idea e come si sia sviluppato poi operativamente l'impianto di questi microchip. Ed è molto interessante perché lui ci parla del fatto che è già dal 2019 che ha fatto il primo impianto. Sono dei microchip che ognuno può acquistare in internet e poi farsi impiantare attraverso l'aiuto di delle ditte specializzate appunto per l'impianto sottocutaneo. La cosa simpatica è che effettivamente il signor Cuffetti ha fatto una scelta con un vasto assortimento di microchip. Uno dei primi è un microchip che serve semplicemente, semplicemente si fa per dire, per aprire e chiudere porte, per aprire e chiudere serrande. Quindi un microchip che agevolerebbe l'uomo in questa mansione che oramai sta diventando impossibile da essere compiuta semplicemente con l'ausilio di un braccio oppure con l'ausilio di un energia muscolare di un bicipite. Ma detto questo ci sono anche dei microchip molto più complessi. Nell'assortimento del signor Cuffetti ce ne sono alcuni che permettono di agevolare dei pagamenti e delle transazioni bancarie, altri che permettono di condividere il proprio profilo di LinkedIn e altri ancora, come ci ricorda l'informatico Bresciano, che addirittura servirebbero a svolgere delle mansioni estremamente complesse come ad esempio un microchip che avrebbe una potenzialità magnetica per cui avvicinando un braccio, un arto, una parte del corpo a delle vite o dei chiodi lasciati per terra ha la magica capacità di attrarli a sé. Come anche un altro microchip che ancora una volta avrebbe la capacità quando passa vicino a un sensore di accendere un led. Come vedete il corpo umano si sta oramai costellando in una serie di micro gadget che appunto oramai sono impiantati sotto pelle e ripetiamo nel signor Cuffetti come dicono i numerosi articoli dedicati alla sua impresa è realmente un pioniere in Italia, il primo se non uno dei primi comunque esseri umani a farsi impiantare una microtecnologia sottocutanea appunto per rendere più semplice la vita sul nostro pianeta terrestre. E cosa può dirci, cosa può insegnarci l'esempio del nostro informatico Bresciano? Beh, ci dice molto sul modo in cui questa arroboante, questa globale filosofia del transumanesimo oramai sta penetrando all'interno delle nostre coscienze, della nostra mentalità e anche della nostra vita quotidiana. E lo vedete, lo sta facendo in una maniera molto insidiosa e molto capillare. Non lo fa quindi con un grandissimo vociare, ma lo fa in maniera molto discreta, solleticando direi soprattutto quella che è la curiosità che può essere presente in ciascuno di noi. Quando lo scopo del transumanesimo si declina alla fin fine per aprire una porta, per accendere un led o per attirare una vite, voi capite da sole che la grande filosofia sta agendo in maniera molto particolare, quindi ci sta solleticando, ci sta stuzzicando e noi la seguiamo per quello che è la nostra stessa capacità di comprenderla e di seguirla. Quindi ragionare al solo semplice livello quotidiano, meccanico, di risoluzione, di semplificazione o di miglioramento di cose che riguardano francamente una quotidianità direi un pochino spicciola, un pochino troppo spicciola, ma comunque funzionale evidentemente al modo con cui noi siamo e quello che noi siamo diventati oramai in questa epoca. C'è poi un secondo aspetto interessante ed è quello che riguarda il modo con cui il transumanesimo riesce a far la breccia in maniera così potente, portentosa e profonda all'interno di noi e direi lo fa essenzialmente attraverso una promessa profetica, che è quella di liberarci da tutti i mali del nostro tempo e di tutti i mali dell'uomo in generale. C'è una promessa di liberarci dalla povertà, dalle carestie, dal gioco del lavoro, ma c'è anche la promessa di liberarci dalla malattia, dall'invecchiamento e, come afferma lo stesso profeta del transumanesimo, Yuval Harari, di liberarci un domani anche dalla morte. Quindi, come vedete, il transumanesimo cosa ci dice in fondo? Tu non ti preoccupare, non farti domande angustiose a cui ovviamente potresti solo rispondere con senso critico e con angoscia. Delega a noi non pensare più a niente, metti la macchina in folle e ci occupiamo noi di dare in maniera prefabbricata tutte le risposte ai quesiti che potrebbero in te creare dell'angoscia. Come vedete, in questo modo l'uomo viene totalmente deresponsabilizzato, affida totalmente se stesso al transumanesimo, il quale ha già tutte le risposte per noi. Ma non solo, affida anche il proprio corpo al transumanesimo che, come abbiamo visto nel nostro esempio del nostro informatico baesciano, ma che è un elemento che riguarda poi tutto il transumanesimo, il corpo è il vero protagonista del transumanesimo, è un corpo di cui noi volontariamente ci autoespropriamo, che affidiamo al transumanesimo, perché venga restituito come un corpo costellato di propaggini microtecnologiche, permetterebbero queste propaggini microtecnologiche impiantate all'interno del corpo proprio di rendere possibili tutti i vari dogmi profetici che il transumanesimo stesso porta avanti. Quello che ci interessa di capire, perché questo è l'elemento subdolo e che spesso non viene riconosciuto, è il fatto cioè che il transumanesimo in realtà sia una forma molto avanzata di consumismo. Noi lo sappiamo, all'inizio del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, sia diffusa questa cultura del creare una società dei consumi, quindi fare in modo che l'uomo abbia dei bisogni, che all'uomo vengano creati artificialmente dei bisogni in maniera tale che l'industria, il consumismo, il capitalismo possano soddisfare questi stessi bisogni. Negli anni 50, negli anni 40, poteva essere un frigorifero, quindi il parentare, l'importanza di un frigorifero, diventare quello, quell'oggetto di desiderio per cui dietro a esso si creava un bisogno e poi magari alcune famiglie si indebitavano anche per comprare un frigorifero. O negli anni a seguire può essere stato un televisore, oppure la seconda casa, oppure la terza macchina e così via dicendo. Quello che ci interessa in questa nuovissima forma di consumismo e di creazione di bisogni all'interno della persona, come vedete, il frutto del desiderio siamo noi stessi. La nostra possibilità di proiettarci all'infinito nel futuro, di continuare a esistere su questo pianeta per sempre, e proprio poco importa se poi al posto del nostro corpo ci sarà semplicemente un robot fatto completamente di microchip e dominato e regolamentato da algoritmi e quello che rimarrà di noi sarà semplicemente una particola di consapevolezza, di coscienza che poi abiterebbe e renderebbe in movimento e farebbe agire questo stesso robot totalmente creato appunto dalla tecnologia. Questo non importa perché come abbiamo visto oramai il modo attraverso cui queste filosofie entrano all'interno di noi è una modalità estremamente minimale. Questi problemi che adesso stiamo sollevando in maniera molto sintetica non vengono in alcun modo presi in considerazione. Perché? Perché lo abbiamo visto. La persona media cosa pensa? Quando pensa a transumanesimo pensa ad aprire una porta, a sollevare una serranda, ad accendere un led e a sollevare delle viti con il proprio braccio che si avvicina agli oggetti metallici stessi. Quindi come vediamo tutto funziona, tutto si muove a grandissime altezze, ma agisce all'interno di noi attraverso dei bisogni e un modus cogitandi, cioè un modo di pensare estremamente minuto, estremamente piccolo, estremamente diretto. Qual è il consiglio ai naviganti in questo caso? Facciamoci delle domande. Facciamoci delle domande senza pensare alla vite, al cacciavite o all'head o al postpay o al profilo da LinkedIn che possiamo condividere se avessimo un microchip anche noi come il nostro signor Mattia. Facciamoci delle domande e abbiamo il coraggio anche di pensare più a lunga gittata. Questo dove ci può portare? Dove mi sta portando? E io sono davvero disposto a concedere, autoespropriare, come dicevo poc'anzi, il mio corpo per poterlo dare in mano a qualcun altro che avrebbe a questo punto il diritto totale di farne ciò che egli vuole perché questa stessa dimensione, questa stessa persona, questa stessa realtà dicono di sapere molto meglio di noi ciò che noi dobbiamo essere, dobbiamo fare e dobbiamo desiderare. Grazie